51 le imbarcazioni scese in acqua per la prima edizione del Trofeo Scalera. Mare calmo e vento deboli hanno accompagnato gli equipaggi per l'intera regata organizzata dal CUS Bari. Il trofeo intitolato ad Andrea Scalera, 37 anni barese, è stato voluto dalla famiglia con una doppia finalità, agonistica e sociale, attraverso una raccolta fondi in favore di emergency. In particolare quest'anno, con le quote di iscrizione raccolte, sarà acquistato un generatore elettrico che andrà ad alimentare il nuovo progetto mobile Eltbox. Sullo specchio d'acqua tra Bari e Torriammare, le imbarcazioni delle classi Orc, Libere e Multiscafo si sono sfidate con sano agonismo. Il trofeo Andrea Scalera, Libere Emergency Overall Real Time, è stato conquistato da Giuseppe Chiaravolo con l'imbarcazione Obelix del CUS Bari. Invece, a Natale Lattanzi, con l'imbarcazione Dezza Amore del Circolo Velico Onda Buena, è andato il trofeo Challenge prima edizione Andrea Scalera. Premiati nel corso della serata, i primi tre di ogni regruppamento, dal presidente e vicepresidente del CUS Bari, Giuseppe Secce e Beppe Angiuli, e dal presidente della FIV regionale pugliese, Alberto Lategola.